Sul nuovo ospedale il silenzio si invoca un'operazione trasparenza. Si apre una pagina internet dedicata per inserirvi lo stato della pratica con i provvedimenti amministrativi più importanti, cominciando da quelli relativi alla nomina del nuovo commissario Guido Monteforte, alle procedure di esproprio e ai finanziamenti necessari alla realizzazione dell'opera. Il precedente commissario prefetto Scaduto aveva aperto una pagina apposita sul sito internet della prefettura di Siracusa, attoressa il quale documentava ogni attività svolta non più consultabile, dichiare il consigliere comunale Paolo Cavallaro, fratelli d'Italia. Ci mancherebbero 47 milioni al momento, cioè a dire se si reperiscono rapidamente, diversamente il rischio è che non bastino più tra aumenti di prezzo e possibili varianti, spesso inevitabili, dinanzi a tempistica di realizzazione infinita. I cittadini non possono essere informati dagli organi di stampa su cui comunque non leggo novità sul tema da quasi un mese, ma direttamente dal commissario a cui è stato affidato questo mandato straordinario. La città non può più attendere e dinanzi a silenzia e rimballi di notizie di ogni tipo sulla ricerca degli ultimi finanziamenti necessari, credo che il Consiglio Comunale intero debba tornare a discutere sul tema proprio alla presenza del commissario Monteforte e di tutta la deputazione regionale e nazionale. Me ne farò presto promotore e il momento delle responsabilità ai cittadini devono avere notizie certe e ufficiali, nessuno deve sentirsi più autorizzato a fare campagne elettorali sulla pelle della gente. Vogliamo la verità, conclude Cavallaro. Rivolgo quindi un appello pubblico a chi ha autorità per intervenire, a mettere a disposizione dei cittadini per trasparenza e rassicurazione tutta la documentazione necessaria a comprendere lo stato dell'arte della costruzione del nuovo ospedale di Siracusa. Basta con le rassicurazioni verbali, vogliamo leggere le carte e il documento dove ci sia scritto ospedale di secondo livello, nel quale dovrebbe essere necessario un'adierica al decreto Balducci recepita in Sicilia, visto che anche su questo pare ci sia un'assurda retromarcia.